Nella scorsa lezione il pastore Gennaro ha fatto l'introduzione ai libri storici, vi ricordate la ripartizione di questo periodo, parliamo di circa mille anni di storia, primo periodo che va dal 1500-1450 circa, fino al 1050 è il periodo detto della teocrazia, cioè governo di Dio. Poi dal 1050 con il re Saul fino a circa il 586 che è l'anno della deportazione dal regno di Giuda, la distruzione di Gerusalemme, è il tempo della monocrazia fino poi al tempo della deportazione che andrà avanti fino al rientro poi degli esuli, sino alla metà del terzo secolo, quarto secolo, quindi del 450 circa, 430. Quindi questo è a grandi linee quello che era stato detto la scorsa volta. Abbiamo parlato del libro di Josue, il libro della conquista, abbiamo una slide sul libro di Josue, così vediamo se riuscite a vederla anche voi. Ok, ecco qua. Quindi il libro di Josue, periodo indicativo tra il 1500 e il 1450, abbiamo la fine del ministero di Mosè, l'inizio di questo ministero del condottiero. Josue, il libro è redatto verosimilmente, anche qui non abbiamo certezza di chi sia il vero e proprio autore, verosimilmente Josue per la prima parte, fino alla morte poi Eleazar. Di che cosa parla? L'abbiamo detto, la conquista, l'introduzione del popolo di Israele nella terra promessa, nella terra di Canaan. Abbiamo questo libro che descrive la spartizione territoriale ed è il primo libro all'interno di quelli che vengono definiti nel canone ebraico dei Nevim, i profeti. Quindi per noi è un libro storico ma nella Bibbia ebraica questo è il primo libro dei libri profetici, Nevim. Andiamo avanti, vediamo un attimo anche i giudici, giusto per ricapitolare. Ecco, qui vi ho messo anche qualche consiglio di lettura, se qualcuno ce l'ha a casa questo libro è molto bello, il libro di Josue. Se non ce l'avete, lo volete acquistare, costa poco ed ha un bellissimo panorama intorno a quello che è il contenuto di questo libro. Io l'ho letto diversi anni fa, però mi ricordo ancora alcuni passaggi che sono veramente istruttivi, quindi se qualcuno vuole approfondire in separata sede per conto proprio, di che cosa tratti questo libro di Josue, vi consiglio di leggere questo bel libricino. Vi consiglio anche un'altra lettura, se qualcuno magari è più interessato, di quella che è la storia del cristianesimo del secondo secolo, quindi subito dopo la compilazione del canone del Nuovo Testamento, non c'è la slide, si chiama Dialogo con Trifone. Non so se qualcuno ne ha sentito parlare, scritto da Giustino Martire. Questo libro è veramente un capolavoro, se avete modo lo trovate anche su internet, si può scaricare gratuitamente. È una bellissima lezione di apologetica cristiana, difende la fede e spiega proprio dall'Antico Testamento, tra cui il libro di Josue, la figura di Gesù. Quindi se qualcuno ha voglia, interesse e vuole approfondire anche intorno al libro di Josue, dove è presentato Cristo, vi consiglio di leggervi questo libro, Dialogo con Trifone, di Giustino Martire, Giustino il filosofo, scritto intorno al 150 d.C. Ok, andiamo un attimo ai giudici, abbiamo parlato dei giudici, gli sciofette, le guide, stabilite da Dio durante il tempo della teocrazia, un tempo particolare, un tempo difficile, vi ricordate qual è il tema conduttore, il filo conduttore di questo libro, che è anche l'ultimo versetto, non c'era re in Israele, ognuno faceva ciò che gli pareva meglio. E si susseguono una serie di giudici, dodici in tutto, che Dio suscita dopo che il popolo si compromette, si svia, si allontana, e Dio nella sua misericordia suscita questi liberatori, lo sciofette, che diventa la guida per un certo tempo di restaurazione per il popolo, fino a che poi si svia un'altra volta. Quindi questo era il contenuto in generale. Il tempo del libro dei giudici è di circa 325 anni, parliamo dal 1450 fino al 1125, per 325 anni complessivi. Ok, quindi questo è quello che abbiamo visto la scorsa volta. Addentriamoci quindi oggi nel nuovo perimetro, nel nuovo testo, il libro di Ruth. Bellissimo il libro di Ruth. Sono solo 85 versetti, ma è un capolavoro letterario, anche dal punto di vista della scrittura, è veramente un libro meraviglioso, un libro ricchissimo di informazioni. Quando si verificano i fatti descritti in questo libro nel tempo dei giudici, verosimilmente verso la fine del tempo dei giudici. Perché abbiamo questo libro nella scrittura? È un libro interessante ed è un libro anche importante. Ci parla della storia di una famiglia, la famiglia di Elimelech, che a un certo punto decide di allontanarsi da Bethlehem e dalla propria città natale per recarsi nelle terre di Moab in cerca di fortuna. Voi sapete la storia, come va a finire. Elimelech muore, i suoi figli Malon e Kilion si sposano con due Moabite, dopodiché muoiono anche i figli e quindi rimane soltanto la moglie Naomi, con le due nuore, una delle quali si chiama Ruth e l'altra Orpa, al che queste tre donne decidono in un certo modo di ripartire. Naomi sente dire di una nuova visitazione da parte di Dio nel territorio di Bethlehem e quindi di ritornare nel suo paese natale. Una delle due, Ruth, sceglie di seguirla, mentre l'altra Orpa si divide. Di che cosa ci parla quindi questo libro? Di una vicenda prettamente familiare, ma che poi diventa in realtà una vicenda di portata nazionale. Perché questa famiglia, la famiglia di Ruth, sarà quella che darà i Natali a Davide. Ruth si sposerà con Boaz, un uomo potente, un uomo ricco, che riscatterà la sua vita attraverso quella che era la legge del Levirato. Cos'è questa legge del Levirato? Nel caso in cui moriva un uomo non lasciando figli, era dovere dei familiari più prossimi prendere in moglie la vedova per lasciare una discendenza al defunto. E questo avviene nel caso di Malon. Come abbiamo detto, questo uomo morì nelle terre di Moab, ma questa sua moglie, Ruth, fu riscattata. E proprio il tema del riscatto, quello che in ebraico si chiama Gaal, è il tema centrale di questo libro. E chiaramente questo testo ha un grande significato anche tipologico, ovvero ci rappresenta quello che poi Gesù dimostrerà e ci attesterà nel Nuovo Testamento. Lui è il nostro parente prossimo che ha il diritto di riscatto sulla nostra vita. E' colui che ci redime dalla nostra condizione di povertà, di miseria, di disperazione, dandoci non solo un'eredità, ma dandoci anche un futuro, dandoci una posterità. E quindi questo è molto bello, molto interessante. Il libro di Ruth, tra le altre cose, ha diverse particolarità. Una di queste sono i nomi dei personaggi. Ogni nome contiene un po' il riassunto, la storia del personaggio stesso. A cominciare da Elimelech. Elimelech significa Dio è re. Abbiamo detto che ci troviamo nel tempo dei giudici, quindi proprio in questo tempo il popolo si era dimenticato che Dio era re. E di conseguenza si trovò in diverse occasioni, in diverse circostanze a fronteggiare avversità e le conquise da parte degli eserciti nemici. Elimelech, allontanandosi da Betlemme, rappresenta un po' quello che era il cuore degli israeliti, che non riconoscevano Dio come proprio re e si sviavano. Cadevano nell'idolatria, nella malvagità, con tutte le conseguenze. Naomi significa mia dolcezza, mia piacevolezza, ed è una bellissima figura dello Spirito Santo. Poi di questo magari ne parliamo un attimo. Ruth è incerta, la etimologia di questo nome, ma sembrerebbe che significa compagna o amica. Di fatto, questo è quello che questa donna farà. Sceglierà di stare insieme alla suocera, sceglierà di seguirla e di mettere la sua vita intera, per così dire, nelle mani della suocera, non sapendo ciò a cui andava incontro. Orpa, questa donna che ha un vissuto simile, per non dire identico a quello di Ruth, sceglie invece di tornarsene dalla sua famiglia. E il significato di Orpa, verosimilmente, è nuca, il retro della testa, questa parte del collo. Proprio a rappresentare questa scelta di voltare le spalle, di girarsi e di andarsene per la sua strada. Malon significa indebolito, è poverino, non hanno dato un bel nome e la sua vita non è stata un granché. Chilion significa languente, è un po' rappresenta la sorte di quelli che scelgono di vivere lontano da Dio. Debolezza spirituale, patimenti, tormenti, sofferenze, se non dal punto di vista naturale e materiale, sicuramente dal punto di vista spirituale. E poi arriviamo a Boaz, figura di Cristo. Boaz significa forte. Io vorrei fare una domandina, così giusto per tenere destra la vostra attenzione, prima che vi addormentiate. Dov'è che compare, vediamo se qualcuno lo sa, questo nome Boaz nella Bibbia e non si riferisce ad una persona. Vediamo se qualcuno si ricorda. Vi do un consiglio, un suggerimento, pensate al Tempio di Salomone. Vedo che la domanda è abbastanza ostica. Tuo marito lo sa di sicuro. Quando Salomone resse il Tempio dice che le due colonne del portico si chiamavano una Iakin e l'altra Boaz. La colonna di destra si chiamava Iakin e la colonna di sinistra si chiamava Boaz. La cosa veramente interessante è che la colonna di destra si chiama Iakin e Iakin significa rizzato dal Signore, mentre quella di sinistra significa forza. Questa è una bellissima figura perché rappresenta le due parti, le due essenze del popolo di Dio. Sorretti, rizzati, aiutati dal Signore ma mossi anche dalla nostra forza naturale. Abbiamo bisogno di entrambe le parti, entrambe le componenti. Quindi prima domanda andata a vuoto. Vediamo con le prossime se riusciamo a migliorare un po' i risultati. Vi do anche qualche altra curiosità sul libro di Ruth, che leggevo, mi è piaciuto, ve lo condivido. Nella tradizione ebraica il libro di Ruth fa parte delle cinque Megillot. Abbiamo detto nella prima lezione che il Pentateuco, la Torah, è costituita da cinque libri, ma all'interno della scrittura ebraica abbiamo anche le cinque Megillot. Megillà vuol dire rotolo, i cinque rotoli. E Ruth è il secondo di questi rotoli. Credo che ci sia anche scritto, sì. Il primo è il Cantico dei Cantici, il secondo Ruth, il terzo Lamentazioni, il quarto Ecclesiaste, il quinto Esther. Che cosa sono queste Megillot? Le Megillot vengono lette in occasione delle principali feste liturgiche degli israeliti. Pensate un po', la festa di Pentecoste coincide con la lettura di Ruth. Adesso io un po' ho fantasticato. Però è vero il fatto che il libro di Ruth mette enfasi particolare sulla figura di Naomi. Oltre che su quella di Ruth, ovviamente, la figura dello Spirito Santo. E non a caso, questo è il testo che viene letto in occasione appunto della festa di Pentecoste. Adesso 2 più 2 fa 4. Voi vi ricordate che cosa è successo a Pentecoste? La discesa dello Spirito Santo. E quindi questo libro è un'anticipazione, possiamo dire, ci permette di annusare, di assaporare quello che avverrà poi molti secoli più tardi quando Dio manifesterà la gloria e la potenza dello Spirito Santo in mezzo al suo popolo. Quindi, il libro di Ruth è interessantissimo. Sono solo 85 versetti, si legge in pochi minuti, ma è di una bellezza straordinaria, di una ricchezza incredibile. Vi racconto un piccolo aneddoto. Alla fine del 1700, un certo Benjamin Franklin, che è uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, e noi tutti ne abbiamo a che fare, volendo o no, perché ha inventato il parafulmine. Non so se esistono ancora, ma sulle case abbiamo tutti un, diciamo, tributo da offrire a Benjamin Franklin, perché oltre ad essere un politico, uno scrittore, uno scienziato, è stato anche un inventore, ha inventato il parafulmine. Comunque, chi era questo Benjamin Franklin? Questo Benjamin Franklin è nato in una famiglia numerosa, era il quindicesimo di 17 figli, e i suoi genitori da piccolo volevano che facesse il pastore, che diventasse un uomo di Dio, ma a questo uomo proprio non li interessava. Però ha studiato, nei primi anni della sua vita, la Bibbia, dopodiché si è allontanato da Dio, adesso noi non prenderemo Benjamin Franklin come esempio di fede, ma è successo un episodio interessante. Nel 1785 lui diventa ambasciatore degli Stati Uniti in Francia, e in Francia in quell'epoca siamo nel picco dell'illuminismo, quindi la Bibbia ormai era un libro vecchio, non era più da considerare come un libro di verità, un libro a cui ispirarsi, un libro addirittura in cui credere. E così questo uomo frequentando, diciamo, le persone borghesi, le persone nobili, i politici francesi, li sentiva ridacchiare di questo libro, della Bibbia. Siccome lui era un tipo che non se le faceva passare le cose, inventò uno stratagemma. Adesso mi invito a fare un test, giusto per farvi capire, voi sapete che i francesi sono molto nazionalistici, non so se c'è qualche francese, magari qualcuno che ci ascolta, comunque i francesi sono molto nazionalistici, sono molto patriotici. Vi invito a fare un test, se avete il cellulare in mano, andate su Google traduttore, giusto per farvi capire, poi arrivo al dunque, almeno non vi addormentate. Andate su Google traduttore, mettete inglese contro italiano. Scrivete smartphone, cosa vi esce? Mettete inglese contro tedesco, cosa vi esce? Metti contro francese. Telefon intelligent. Perché i francesi ci tengono ad essere unici, non vogliono copiare dagli altri. Allora Benjamin Franklin che cosa fa? Prende il libro di Ruth, cambia i nomi, mette i nomi di donne e persone in francese. Cambia i luoghi e mette i luoghi di territori appartenenti alla Francia. Quando leggono questo libro, Messie Franklin, ma dove hai trovato questo libro così bello? La San Biblio. Questo per darvi un'idea. Per quanto disprezzato, in realtà è un libro straordinario. Non solo questo, ovviamente. Ma questo ci lascia intendere come in realtà il Signore ha fatto ogni cosa perfetta. Anche dal punto di vista del contenuto, semplicemente la lettura. È un libro di grande arricchimento, di grande benedizione. Quindi se non lo conoscete stasera, quando andrete a casa o magari domani mattina, 85 versetti. Ci vogliono 6-7 minuti per leggerlo per intero. Leggetelo e fate anche voi le vostre considerazioni. C'è un bellissimo libricino che abbiamo trovato qua in chiesa, credo che sia dalla sorella Sandra, poi glielo restituiamo. Vai pure avanti. Questo bellissimo libro, l'ho letto sabato, sono 40 pagine, si leggi in un attimo. Studi biblici su RUT. E vi spiega proprio tutto quello che vi ho detto adesso. Il significato dei nomi, il significato del riscatto. Se volete fare un investimento di ben 3,80 euro, vi consiglio di comprarlo. È un libro veramente interessante. E vi permette di capire appieno il contenuto spirituale, oltre che la narrazione di questi fatti relativi a RUT. Avete qualche domanda su RUT? Se no andiamo avanti. E passiamo al primo libro di Samuele. Ok. Vai pure avanti. Primo libro di Samuele. Lo apro anch'io da qua in modo tale che non devo alzare la testa. Il primo libro di Samuele riporta i fatti indicativamente dall'anno 1100 avanti Cristo, quando era giudice Eli, fino a circa l'anno 1010, ovvero la morte di Saul, il primo re. Secondo la tradizione, Samuele è l'autore della prima parte, ovvero quella della sua vita, fino al versetto 23, al capitolo 24. La seconda parte è stata redatta probabilmente da un discepolo di Samuele, una persona vicina ai fatti, come il sacerdote Abiatarra. Il periodo di composizione è di poco successivo, intorno all'anno 1000. Di che cosa parla il primo libro di Samuele? Il primo libro di Samuele parla in sostanza del rapporto tra Dio e Israele, attraverso i giudici, Eli nei primi capitoli, poi Samuele, e quindi attraverso i leader, i leader che sono nel caso specifico Saul, che è il primo re, e Davide, che potremmo definirlo il re in pectore, cioè era stato già un tore, ma di fatto per tutto l'arco del libro non è ancora materialmente il re di Israele. Abbiamo anche l'illustrazione di quello che è il ministero profetico, Samuele, detto anche il veggente. Proprio questa parola è una parola interessante, il rohe, colui che vede. E quindi ci viene descritto non solo un fatto relativo ad eventi storici, ma anche dal punto di vista spirituale abbiamo molti insegnamenti intorno al ministero, in modo particolare quello profetico esercitato da Samuele. In questo libro è raccontata ed è descritta la fine della teocrazia. Vi ricordate come è stato detto settimana scorsa? No, l'ultima volta finisce il tempo del governo di Dio ed inizia la monarchia, il governo di uno solo, il governo di un re, facendo espressamente riferimento a ciò che rientrava nel piano di Dio per il suo popolo, ovvero Dio non aveva in mente di stabilire la monocrazia, la monarchia, ma questa è stata la volontà del popolo. Giusto così, per capire un attimo, siccome c'è parecchio, è un libro impegnativo, un libro abbastanza vasto, prendiamo qualche riferimento, giusto per intenderci. Primo Samuele, capitolo 8, che cosa succede a un certo punto? Quando il popolo chiede un re, non era la volontà di Dio. Il piano di Dio non era quello di dare un re al popolo. Tanto è vero che se leggiamo al capitolo 8, il versetto 7, Quindi Dio non ha mai previsto che il popolo potesse scegliere, optare per la monarchia. Di fatto qual era il ragionamento che il popolo faceva? Vogliamo essere un popolo come tutti gli altri popoli. Tutti gli altri hanno un re e anche noi vogliamo avere un re che combatta le nostre battaglie, che va davanti al nostro esercito, che amministri per noi la giustizia. Esattamente tutto quello che Dio aveva fatto fino a quel momento, o almeno nel tempo in cui il popolo era stato fedele. Ma il popolo non era d'accordo, desiderava avere un re. Sempre al capitolo 8 di primo Samuele, leggiamo il versetto 18 e il versetto 19, Samuele avverte solennemente che se il popolo avesse scelto un re, sarebbero stati dolori. Allora griderete a causa del re che vi sarete scelto, ma in quel giorno il Signore non vi risponderà. Ma purtroppo l'ostinatezza di questo popolo fu tale che alla fine Dio acconsentì. Tanto è vero che al versetto 19, scritto, il popolo rifiutò di dare ascolto alle parole di Samuele e disse no, ci sarà un re su di noi. Chi era questo re? Saul. Perché Saul fu eletto re? Dio permise che Saul venisse eletto re, perché era il più bell'uomo di tutto Israele. Alto, più di tutti gli altri, almeno di una spanna. Quindi esattamente quello che il popolo si aspettava. Un uomo che in apparenza desse la sensazione di essere un uomo forte, sicuro, un uomo valoroso per quanti conoscono la storia. Purtroppo che cosa accade? Se è vero che Saul iniziò bene, la fine non fu certamente una fine gloriosa. Anzi, tutt'altro. Una fine veramente ignominiosa. Che cosa ci insegna la storia di Saul? Lo troviamo al capitolo 16 di primo Samuele, versetto 7. Qui si riferisce a Samuele mentre andava ad ungere Davide. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza ma il Signore guarda al cuore. Quindi purtroppo Saul pagò il fatto di essersi inorgoglito, di aver esaltato la propria persona. E le conseguenze, le sappiamo, furono drammatiche. Oggi leggevo una bella storiella, ve la racconto così spezziamo un attimo l'inerzia del discorso. Un certo professor Smith, è come dire Mario Rossi, ce ne sono dappertutto, si trovava in Svizzera, c'è un monte, si chiama il Weishorn, alto 4.500 metri. E questo uomo stava scalando la montagna insieme alla guida. Quando arrivano proprio all'apice, sono ormai arrivati alla vetta, la guida si ferma e dice sali tu sulla vetta, per primo. E questo Mr. Smith sale sulla vetta e si sta alzando in piedi. E la guida lo ferma. Dice sulla vetta si può stare solo in ginocchio. Perché se tu ti alzi in piedi, la corrente d'aria ti farà volare giù. Questa è una bellissima figura di quello che deve essere l'umiltà. Più stai in alto, più devi imparare a stare in ginocchio. Perché quando stai in alto il vento soffia forte ed è veramente un attimo precipitare. Quindi la storia di Mr. Smith è significativa, vale anche per noi come valeva per Saul, ma purtroppo lui non se ne è accorto, con le conseguenze che ben conosciamo. Saul, a causa del proprio orgoglio, si ritrovò poi ad allontanarsi da Dio. Se avete piacere, avete interesse di approfondire tutto quanto il discorso, sapete poi Peccò, addirittura andrò a cercare un'evocatrice di defunti. Insomma, la storia è veramente triste per quanto riguarda Saul, pur avendo iniziato anche bene. C'era un versetto che non ho scritto, lo prendo un attimo, che è un monito veramente importante, anche per la nostra vita. Ve lo trovo e lo leggo. Primo Samuele, capitolo 15, il versetto 23, leggo anche il versetto 22. Samuele disse, il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Sentite il versetto 23. Infatti la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Poiché tu hai rigettato la parola del Signore, anche egli ti rigetta come re. Questo purtroppo è il momento cruciale della vita di Saulo, dove lui a causa della sua ostinatezza e della sua ribellione verrà rigettato come re. Ed è molto forte quello che viene descritto in questi versetti. La ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli. Quindi per cadere nell'idolatria non serve prostrarsi davanti alle statue, ma essere ribelli, avere un cuore ostinato davanti a Dio è esattamente la stessa cosa. Quindi Dio ci possa aiutare a prendere veramente sul serio la nostra relazione con Dio e anche con gli altri in modo tale da non essere vittime di questo stesso peccato. Il peccato della ribellione, il peccato dell'ostinatezza che hanno portato Saulo a precipitare. E quindi dopo Saulo, o meglio, mentre ancora Saulo è re, emerge la figura di Davide. Emerge la figura di Davide. Il pastore, il giovincello, colui che al capitolo 17 affronterà Golia, colui che viene unto re. E non si parla però molto di questo Davide negli ultimi capitoli del primo libro di Samuele. Eppure ci sarebbe parecchio da dire, parecchio da considerare, perché se è vero che Davide ha avuto un inizio meraviglioso, anche lui a un certo punto ne ha combinate. Prima ancora di arrivare all'adulterio, all'omicidio, perché quello tutti se lo ricordano, ma sono nel secondo libro di Samuele. Al primo libro di Samuele, se andiamo a leggere ad esempio il primo versetto del capitolo 27, sentite un po'. Davide disse in cuor suo, un giorno o l'altro perirò per mano di Saul. Non vi è nulla di meglio per me che rifugiarmi nel paese dei Filistei. Così Saul, perduto ogni speranza, smetterà di cercarmi per tutto il territorio di Israele e io sfuggirò alle sue mani. Che cosa fa Davide? Si impaurisce. Teme che Saul riuscirà a prenderlo e ad ucciderlo. Fino a quel momento Dio lo aveva sempre protetto, risparmiato, guardato, ma a un certo punto Davide perde la sua fiducia nel Signore. E di conseguenza va a rifugiarsi nel paese dei Filistei. E da lì, insomma, inizia un certo declino per la vita di Davide. Ed è importante considerare come questo libro metta in luce anche aspetti prettamente negativi. Anche di un uomo di Dio. Fondamentalmente Davide viene descritto in tutto e per tutto come una figura positiva, ma non mancano queste note che mettono in luce anche le sue mancanze. Starà lì parecchio, fino a che poi, se vi ricordate, verrà incendiata, distrutta, Siclag. E Davide finalmente, proprio verso la fine, l'ultimo capitolo, al capitolo 30, tornerà al Signore. Quindi questo libro ci mette davanti non solo fatti inerenti la chiamata, la guida, il desiderio di Dio di scegliersi uno secondo il suo cuore, ma anche le debolezze. Le debolezze di questo uomo di Dio. Ok, gira pure. Vai avanti di una diapositiva. Vai avanti. Ok, intanto vi devo presentare un altro libro, quindi. Il risveglio dei Samueli. Vediamo se ce la facciamo. Eccolo qua. Questo qua è veramente un bellissimo libro. Vi leggo quello che c'è scritto sulla copertina. Come mai Samueli dormiva presso l'altare? Egli aveva creato un ambiente spirituale tiepido e annaquato. Così, Samuele era congelato in mezzo al fuoco. L'ipergrazia, un Vangelo soffice come la crema e il compromesso spirituale, hanno fatto cadere la Chiesa di oggi in un sonno profondo. Ma Dio susciterà un esercito di voci come quella di Samuele per gridare un allarme alla Chiesa addormentata. Io l'ho letto qualche mese fa, è veramente stato bellissimo leggere questo libro. Quindi, se volete fare un grande investimento di ben 12 euro, magari un regalo per Natale, vi consiglio di leggervi questo libro. Poi manderò questa presentazione, se qualcuno vuole c'è anche il link. Veramente, ve lo consiglio. Ne ho qui una copia, se qualcuno poi se lo vuole portare a casa, in prestito. Glielo do volentieri. È veramente un bellissimo libro. E riflette proprio, a partire dal capitolo 3 di Samuele, quando Samuele dormiva nel Tempio, quella che è stata la vocazione, la chiamata di Samuele, come quella chiamata sia una chiamata che ancora oggi sia terribilmente necessaria. in tempi come questi, dove tutti, o perlomeno la maggior parte, vorrebbero un cristianesimo tranquillo, placido, senza impegnarsi, senza avere complicazioni. Tutto quello che non c'è stato nella vita di Samuele. Una vita spesa per servire Dio anche in un contesto difficile, fin da quando era bambino e poi fino al termine della sua vita. Va bene, andiamo avanti. Secondo libro di Samuele. Il secondo libro di Samuele parla praticamente di tutto il regno di Davide. Non l'ho specificato prima. Il regno di Saul dura circa 40 anni, dal 1051 a.C. fino al 1011, indicativamente. Il regno di Davide inizia nel 1011 e durerà per 40 anni fino all'anno circa 971. Chi è che ha scritto il secondo libro di Samuele? Anche qui l'autore è sconosciuto. Alcuni parlano di un seguace, di un discepolo di Samuele o di una persona vicina ai fatti come il sacerdote Abiatar. La composizione è sempre intorno al 900. Di che cosa parla questo libro? Il libro di Samuele. Come vi dicevo, ci mostra il regno di Davide. Sottolineando negli alti, con le vittorie, il consolidamento della nazione di Israele, ma anche i bassi, con i fallimenti familiari, i peccati di adulterio e omicidio, fino al censimento. Davide, sicuramente in questo libro, almeno nei primi capitoli, in modo particolare, è figura di Cristo, ma è anche figura dell'uomo. Perché tutte le contraddizioni di Davide, vuoi o non vuoi, emergono nella vita di tutti quanti noi. Le sue debolezze, le sue lacune, le sue mancanze, chi più chi meno le può riscontrare nella propria vita. Tutto il libro di secondo Samuele è un monito ed è un incoraggiamento a stare vicini a Dio, a cercare il Signore. Leggiamo giusto qualche versetto così per avere un'idea di massima del libro. Abbiamo dal capitolo 1 al capitolo 10 la prosperità, il consolidamento del regno di Davide. Al capitolo 8 abbiamo il versetto 6 e il versetto 14 che dicono Il Signore rendeva vittorioso Davide dovunque egli andava. Quindi Dio accompagnava questo suo servitore in tutte le sue battaglie, in tutte le sue gesta. Egli vinceva perché Dio era dalla sua parte. E come vi dicevo questo è un monito anche per noi, un ricordo, un insegnamento. Se Lui è con noi, noi saremo più che vincitori, è chiaro. Ma se noi pensiamo di poter stare da soli andiamo oltre il capitolo 10 e arriviamo nei capitoli successivi. Capitolo 11, che cosa succede al capitolo 11? Vi ricordate? Nella stagione in cui iniziano le guerre, Ioab parte con l'esercito di Israele e Davide che cosa fa? Davide se ne sta tranquillo a casa sua. E una sera passeggiando sulla terrazza vede una bellissima donna che sta facendo il bagno e decide di prenderla. Bathsheba. Da lì Bathsheba resterà incinta e sappiamo come va a finire. Davide cercherà di far tornare Uria al marito di questa donna ma Uria si dimostra molto più giusto di Davide. Uria che significa luce del Signore, tra le altre cose. E alla fine Davide per lavarsi la coscienza, per quanto era possibile, deciderà di mandare Uria sul fronte più caldo della battaglia e quindi farlo colpire a morte, macchiandosi di omicidio. Abbiamo tutto questo con Dio che sembra essere spettatore inerte senza reagire fin quando arriviamo al versetto 27, l'ultimo versetto del capitolo 11. Abbiamo letto prima che Dio, il Signore, rendeva vittorioso Davide ovunque egli andava. Versetto 27 del capitolo 11 Ma quello che Davide aveva fatto dispiacque al Signore. Certamente Dio non stette diciamo senza osservare o senza considerare quello che Davide fece. E quindi di lì inizia un periodo difficile. Dal capitolo 11 fino al capitolo 18 abbiamo uno dietro l'altro tutti i fallimenti, gli insuccessi della vita di Davide. Nascerà questo figlio, ci ricordiamo, Dio farà morire questo figlio. Dopodiché Davide si dimostrerà un pessimo padre. Non solo Davide aveva commesso questo peccato ma dimostrerà che in casa sua le cose non funzionavano. Un grande uomo di Dio ma un pessimo uomo di casa. non riuscì a trattare in maniera equa i propri figli creando divisioni a parte che aveva tante moglie già quello era un problema. In ogni caso a un certo punto tra alcuni di questi ci ricordiamo l'incesto di Ammon e dopo questo ci fu l'omicidio e Absalom che si rivolta. Insomma in casa di Davide ne sono successe di cose. E come dicevo all'inizio tutto questo ci mette davanti un monito, un'esortazione riguardo alla nostra vita. Non possiamo pensare che la nostra sia una vita benedetta semplicemente perché andiamo in chiesa o perché preghiamo o perché conosciamo il Signore e abbiamo conosciuto il Signore. Siamo chiamati a prendere delle decisioni a cominciare da casa nostra. Davide non era stato capace e purtroppo gli esiti sono stati tremendi. Absalom riesce a ordire una congiura scoppia addirittura una guerra civile. Sembra ormai che Davide non abbia più speranza ma Dio gli dà la liberazione ma al prezzo della morte di Absalom. Così al capitolo 18 Absalom muore e Davide ritorna sul trono. Dal capitolo 19 al capitolo 24 c'è un nuovo ristabilimento. Davide gode una certa prosperità. Ma c'è un bellissimo capitolo il capitolo 23 dove c'è il canto di Davide è una ripetizione quasi del Salmo 18 e Davide sta tornando diciamo su alti livelli spirituali ma come era stato per Saul il peccato era lì a spiarlo e così anche lui pecca di orgoglio e al capitolo 24 leggiamo che decise di fare un censimento. Qualcuno dirà ma che cos'è un censimento? Invece era una cosa che Dio non aveva chiesto di fare non aveva stabilito al suo popolo di fare. Tanto è vero che Davide proprio per questo peccato del censimento per cui voleva in un certo modo vantare la grandezza del suo regno si troverà ad affrontare una gravissima un gravissimo giudizio da parte di Dio una gravissima punizione e ci ricordiamo che proprio nell'ultimo capitolo poi Davide si pentirà Dio risparmierà Gerusalemme mentre l'angelo era già pronto per sterminare. E così si conclude il secondo libro di Samuele con questo pentimento quando ormai Davide è prossimo alla fine del suo mandato del suo regno ormai anziano questo libro come vi dicevo mostra gli alti e i bassi della vita di questo re importante. Ok. C'avevo un libro anche su questo. L'avevo messo nella slide ma poi non ho mandato l'ultima versione quindi qua non c'è. Si chiama è un libro molto interessante si chiama Il Buon Pastore. Davide è stato un buon pastore o meglio quando era giovane però poi ne ha commessi di errori. E quel libro particolare descrive quella che è la figura del pastore. Questo lo dico soltanto per incoraggiare quanti magari desiderano servire il Signore o magari quanti semplicemente vivono la comunità a considerare la delicatezza e anche la difficoltà del ruolo pastorale. Davide che era un uomo secondo il cuore di Dio abbiamo visto in che cosa è caduto in che cosa ha peccato in quante difficoltà si è venuto a trovare. Questo non ci deve stupire che ancora oggi chi serve il Signore in prima linea chi riveste ruoli di responsabilità di leadership si viene a trovare non di rado anche a affrontare combattimenti difficoltà situazioni complicate quindi è importante è importante considerare tutto questo. Quindi Davide nel bene e nel male è una figura di grande importanza per la nostra vita spirituale. La cosa bella è che il termine della sua vita comunque è una benedizione quindi nonostante gli errori commessi Dio alla fine onorerà il suo servo e questo è anche un motivo di benedizione per la nostra vita. Ci rallegramo nel sapere questo come Dio è capace anche a ristabilire pienamente nonostante le contraddizioni e gli errori in cui si può incappare lungo il cammino. Ok andiamo avanti Dopo Re Davide nel 970 sale sul trono suo figlio Salomone anche Salomone regnerà 40 anni i primi capitoli del libro primo libro dei re parlano appunto del regno di Salomone leggiamo un attimo la scheda il periodo di svolgimento dei fatti va dal regno di Salomone dal 970 sino alla fine del regno di Acab e al contestuale inizio del regno di Acazzia quindi parliamo dell'852 circa l'autore sconosciuto la redazione compreso il secondo libro perché nel canone ebraico stanno insieme è databile tra il 560 e il 536 sono le date che stanno praticamente prima del ritorno sostanzialmente di Israele dalla deportazione quindi un tempo tra la cattività ma precedente al ritorno dei giudei in Gerusalemme vengono narrate le vicende che hanno caratterizzato i regni il re di Giuda di Israele fino a Josaphat per quanto riguarda Giuda e Acab per quanto riguarda Israele emerge la figura profetica di Elia che contrasta l'apostasia diffusa principalmente nel regno del nord l'ascesa e la caduta di Salomone è il primo tema apre la strada alla divisione del regno l'idolatria dilagante è il grande problema che accompagna tutte le vicende Dio sembra lasciare il controllo ai re ma di fatto resta sempre in controllo delle circostanze mi sono dimenticato di dire una cosa di Samuele che ci tenevo a dirla perché adesso siamo verso il periodo natalizio avete presente quella canzone che tutti conosciamo Alleluia di Leonard Cohen lo dico perché succede che anche tra i cristiani e tra di noi qualcuno mette questa canzone in realtà non è un cantico è ispirato però al capitolo undici di secondo Samuele cioè l'incontro tra Davide e Bathsheba e parla esattamente di un incontro a fine sessuale diciamo a sfondo sessuale quindi se vi capita di ricevere qualche messaggio erroneamente mandato per magari semplicemente non consapevolezza sappiate che quella canzone di Leonard Cohen non parla di temi edificanti parla sì è ispirato da secondo Samuele undici ma il contenuto non è un contenuto spirituale tutto qui ci tenevo a dirlo perché so che anche a me è successo addirittura alcuni pastori mi hanno mandato questo messaggio vabbè quindi facciamo attenzione anche a queste piccole cose tornando al libro dei re e poi concludiamo abbiamo sostanzialmente questa questa prima parte se volete poi lo cantiamo abbiamo questa prima parte i primi capitoli del primo libro dei re che descrivono l'ascesa di Salomone e vediamo veramente come tutto va alla grande tutto procede nel modo più straordinario possibile fino a che anche Salomone purtroppo un po' come i suoi predecessori pecca di orgoglio adesso su Salomone si possono dire tante cose e magari quando poi si affronteranno i libri poetici il libro dell'ecclesiaste il libro dei proverbi ci sarà modo di entrare bene nelle considerazioni relative a questo uomo fatto sta che a un certo punto Salomone muore e suo figlio Roboamo diventa re al suo posto Roboamo si trova ad affrontare una decisione importante un po' come diceva Gennaro la volta scorsa deve scegliere se dare ascolto agli anziani alle persone che avevano esperienza sappiate che Salomone per fare quello che ha fatto ha massacrato di tasse questo deve essere chiaro il popolo era stato sottoposto a una certa tassazione rilevante è vero che non c'erano guerre per cui tutto sommato le finanze erano buone ma la pressione fiscale esercitata da Salomone era molto rilevante e allora non appena Roboamo sale al trono dopo Salomone c'era questo grande desiderio questa grande speranza che finalmente questo carico venisse alleggerito e gli anziani andando da Roboamo gli dicono se tu ti fai servo di questo popolo ti servirà per sempre e Roboamo invece sceglie esattamente il contrario da ascolto ai giovani i suoi compagni e dirà il mio mignolo è più grosso del corpo intero di Salomone e quindi questo scatenerà una rivolta interna Israele si dividerà in quel periodo sale come era stato profetizzato precedentemente tra le altre cose Geroboamo una figura abbastanza ambigua un uomo che era stato in un certo senso avvisato da Dio gli era stato profetizzato che sarebbe diventato re su dieci tribù di Israele e all'atto pratico quando poi effettivamente viene unto re chiamato re diviene re abbandona completamente il Signore addirittura costruisce dei vitelli d'oro non vuole che nessuno si rechi a Gerusalemme per adorare insomma diventa l'esempio emblematico di coloro dei re che fecero ciò che è male agli occhi del Signore di lì quindi come ho detto il regno si spacca abbiamo il regno del sud che comprende soltanto la tribù di Giuda e in parte la tribù di Beniamino diciamo due tribù e poi le dieci tribù del nord che sono governate all'inizio da re Geroboamo Geroboamo che diventa come dicevo prima appunto il modello del re che fece ciò che è male agli occhi del Signore dopodiché abbiamo tutta una trafila tutta una successione di re possiamo dire che quantomeno in Giuda ci sono alcuni re che fecero ciò che è bene agli occhi del Signore mentre per quanto riguarda Israele fecero tutti ciò che è male agli occhi del Signore e purtroppo il comportamento del re si riflette nella vita spirituale della nazione se chi guida non ha timore di Dio di conseguenza tutto il popolo tutta la nazione non può che cedere all'idolatria all'immoralità al peccato in generale questo succede in Israele succede anche in Giuda dopo Roboamo c'è suo figlio Abia regna solo tre anni fece ciò che è male agli occhi del Signore poi sorge un altro re che si chiama Asa anche qui parliamo di un personaggio particolare perché Asa regnò a 41 anni capitolo 14 di primo libro dei re c'è la storia parallela nel secondo libro delle cronache capitolo 14 capitolo 16 e Asa regnò a 41 anni iniziò veramente bene sono molto documentato per il semplice fatto che alla scuola domenicale stiamo facendo un re quindi tutte le settimane abbiamo di che parlare brevemente senza tenervi troppo anche perché non vorrei che qualcuno sviene lasciamo magari due minuti per le domande Asa regnò a 41 anni dopo aver fatto pulizia aver per un lungo periodo rimosso l'idolatria per ben 35 anni si dimostrò fedele a Dio addirittura davanti all'esercito degli etiopi fatti di un milione di avversari cercò il Signore e Dio lo liberò negli ultimi anni dice la scrittura che divenne indolente divenne malvagio fece arrestare fece mettere in carcere quei profeti che lo avvisavano di ritornare al Signore e in ultimo morì e dice che quando si ammalò anziché pregare cercare il Signore lui si rivolse soltanto ai medici questo giusto per dare poi un esito finale alla sua vita un uomo che è iniziato molto bene e purtroppo ha finito in maniera abbastanza deludente per non dire tragica questo è un po' quello che si verifica nel libro dei Re anche nel secondo libro dei Re poi magari lo vedremo la prossima volta abbiamo queste vicende alterne ci sono Re che proprio fecero ciò che è male agli occhi del Signore ci sono Re buoni come Asa come anche suo figlio Josaphat che però specialmente nell'ultima parte della loro vita commettono poi degli sbagli in generale però vengono ricordati come Re che fecero ciò che è buono ciò che è giusto agli occhi del Signore prossima volta finiremo il libro dei Re penso che ci sarà il pastore Gennaro vi condividerò queste slide ci sono anche per le puntate successive vi annuncio che io non prendo nessuna percentuale dalla CLC quindi se volete comprare libri a me non viene niente in tasca se non li volete comprare liberissimi va bene così non so se c'è qualche domanda anche se c'è qualcuno su zoom tutto chiaro vi faccio un esempio anche per un altro un altro motivo per cui le date poi sono in alcuni casi difficili da ricostruire ad esempio se voi leggete in Secondo Cronache capitolo 36 versetto 9 dice che Yoyakin aveva 8 anni quando diventò re se invece leggete in Secondo Re capitolo 24 versetto 8 dice che egli aveva 18 anni chi è che ha ragione chi è che ha torto magari qualcuno che legge la Bibbia ci sono anche degli errori proprio di copiatura evidentemente nella stesura degli scritti questo è un altro motivo per cui alle volte le date non sono così facilmente riconoscibili va bene va bene se non ci sono altre domande non so sono pronti di là ok allora se anche online non abbiamo altre domande direi che possiamo concludere con una preghiera dopo di che raccogliamo l'offerta alleluia invito il fratello Gianni a venire qui davanti a fare la preghiera gloria al tuo nome signore signore ti ringraziamo perché siamo alla tua presenza signore grazie perché possiamo prendere insegnamento dalla tua parola signore signore conduci i nostri passi fa che la tua parola possa essere una lampada al nostro piede signore affinché il nostro cammino sia illuminato dalla tua presenza continua a rimanere con noi benedici Simone la sua famiglia benedici il nostro pastore Gennaro che è in viaggio benedici questa comunità signore possa essere una luce nelle tenebre nel nome di Gesù amè